In Angola, per esempio, in una specie di convento di Suore ho visto una montagna, una cosa interminabile, forse 30 metri di altezza, di scorze d'uovo. Ma a che servono? Eh, queste sono importantissime. Questo è il primo alimento per i bambini che non hanno i genitori. Le tritavano, venivano tritate, diventava una polvere. Poi ci aggiungevano, con un po' di questa polvere, un po' di latte in polvere, insieme alla polvere, e un po' d'acqua quella potabile, diventava il primo alimento del bambino, perché nel latte materno tutti sappiamo che c'è molto calcio. Il calcio era la scorza dell'uovo, che insieme a questo latte in polvere, insieme all'acqua, creava il primo alimento del bambino appena nato. Mi pare niente, è una cosa importantissima questa.